Allora come sapete leggiamo oggi il canto venti del paradiso come il nostro solito lo leggiamo Tutto di seguito riprendiamo per spiegare e facciamo una pausa di cinque minuti a un certo punto durante la quale vi prego di mandarmi i vostri dubbi e commenti allacciati Quando colui che tutto il mondo alluma dell'emisperio nostro si discende che il giorno d'ogni parte si consuma Lo ciel che sol di lui prima si accende subitamente si rifà parvente per molte luci in che una risplende E questo atto del ciel mi venne a mente come segno del mondo e dei suoi luci nel benedetto rostro futtacente Però che tutte quelle vive luci vi è più lucendo cominciaron canti da mia memoria labili e caduci O dolce amor che di riso tammanti quanto parevi ardente in quei flailli che avieno spirito son di pensier santi Poscia che i cari e lucidi lapilli onde io vidi ingemmato il sesto lume puoser silenzio agli angelici squilli Udirmi parve un mormorar di fiume che scende chiaro giù di pietra in pietra mostrando l'ubertà del suo cacume E come suono al collo della cetra prende sua forma e siccome al pertugio della sampogna vento che penetra Così rimosso da aspettare indugio quel mormorar dell'aguglia salissi su per lo collo come fosse bugio Pece si vuce qui vi e quindi uscissi per lo suo becco in forma di parole quali aspettava il core ovio le scrissi La parte in me che vede e pate il sole nell'aguglio mortali incominciommi orfisamente riguardarsi vole Perché di fuochi onde io figura fommi quelli onde l'occhio in testa mi scintilla e di tutti i loro gradi son gli sogni Colui che luce in mezzo per pupilla fu il cantor dello spirito santo che l'arca traslatò di villa in villa Ora conosce il merto del suo canto in quanto effetto fu del suo consiglio per lo renumenerar che è altrettanto Dei cinque che mi fan cerchio per ciglio colui che più al becco mi s'accosta la vedovella consolò del figlio Ora conosce quanto caro costa non seguir Cristo per l'esperienza di questa dolce vita e dell'opposta E quel che segue la circonferenza di che ragiono per l'arco superno morte induggio per vera penitenza Ora conosce che il giudizio eterno non si trasmuta quando degno preco fa crastino laggiù dell'odierno L'altro che segue con le leggi e meco sotto buona intenzion che femma il frutto per cedere al pastor si fece greco Ora conosce come il mal dedutto dal suo bene operar non gli è nocivo avvegna che sia il mondo indi distrutto E quel che vedi nell'arco d'eclivo Guglielmo fu cui quella terra plora che piagne Carlo e Federico vivo Ora conosce come si innamora lo celde giusto regge e al sembiante del suo folgore il fa vedere ancora Chi crederebbe giù nel mondo errante che Rifeo Troiano in questo tondo fosse la quinta delle luci sante Ora conosce assai di quel che il mondo veder non può della divina grazia benché sua vista non discerna in fondo Quale all'odetta che in aere si spazia prima cantando e poi tace contenta dell'ultima dolcezza che la sazia Tal mi sembiò l'imago dell'imprenta dell'eterno piacere al cui disio ciascuna cosa quale lei diventa E avvegna che io fossi al dubbiare mio lì quasi vetro allo color che il veste Tempo aspettar tacendo non patio ma della bocca che cose son queste Mi pinse con la forza del suo peso perché io dico ruscarvi di gran feste Poi appresso con l'occhio più acceso lo veledetto segno mi rispose per non tenermi in ammirare sospeso Io vedo che tu credi queste cose perché io le dico ma non vedi come Sicché se son credute sono a scuse Fai come quei che la cosa per nome apprende ben ma la sua guidità te veder non fosse altri non la prome Regno un celoro violenza fate da caldo amore e da viva speranza che vince la divina volontate Non aguisa che l'uomo all'omsobranza ma vince lei perché vuole essere vinta e vinta vince con sua verinanza La prima vita del ciglio e la quinta ti fa meravigliare perché ne vedi la region degli angeli dipinta Di corpi suoi non uscir come credi gentili ma cristiani in ferma fede Quel di passovi e quel di passi piedi Che l'una dell'inferno non si riede giamai a buon voler tornò all'ossa e ciò di viva spene fu mercede Di viva spene che mise la possa nei prieghi fatti a Dio per suscitarla sì che potesse sua voglia essere mossa L'anima gloriosa onde si parla tornata nella carne in che fu poco credette in lui che poteva aiutarla E credendo s'accessi in tanto fuoco di vero amor che alla morte seconda fu degna di venire a questo gioco L'altra per grazia che da sì profonda fontana stilla che mai creatura non pinse l'occhio fino alla prima onda Tutto suo amor laggiù pose addirittura perché di grazia in grazia Dio gli ha perse l'occhio alla nostra redenzione futura Con dei credetti in quella e non sofferse da indil puzzoppio del paganesimo e riprendiene le genti perverse Quelle tre donne li fur per battesimo che tu vedesti dalla destra rota dinanzi al battezzare più di un millesimo O predestinazione quanto remota è la radice tua da quegli aspetti che la prima cagione non vege ontota E voi mortali tenevettivi stretti a giudicare che noi che Dio vedemo non conosciamo ancora tutti gli eletti Ed enne dolce così fatto scemo perché il ben nostro in questo ben s'affina che quel che vuole il Dio e noi volemmo Così da quell'immagine divina per farmi chiara la mia corta vista data mi fu soave medicina E come a buon cantor buon citarista fa seguitarlo guizzo della corda in che più di piacerlo canto acquista Sì mentre che parlò si mi ricorda che io vidi le due luci benedette pur come batter d'occhi si concorda con le parole muoverle fiammette Allora visto che questo stupendo canto è molto legato semanticamente a quello che abbiamo letto la settimana scorsa Ricordiamo brevemente che Dante e Beatrice si trovano nel cielo di Giove Anzi dentro Giove stesso pianeta argentato nel quale Dante ha visto questo spettacolo delle anime come luci che vanno formando lettere Che si soffermano sulla M finale simbolo della monarchia che poi diventa un'aquila E nel canto 19 quest'aquila diciamo che rappresenta la giustizia viene interrogata tacitamente da Dante su un antico digiuno Cioè su una fame che diciamo lui sta sopportando da molti anni che riguarda la apparente ingiustizia della giustizia divina Per quel che riguarda la dannazione degli infedeli negativi cioè di quelli che come dice Dante Essendo nati imposti del tutto lontani dalla predicazione di Cristo e quindi non possono averlo conosciuto Per il fatto di non avere fede nonostante siano stati perfettamente buoni in pensieri in parole in atti Sono esclusi dalla beatitudine e l'aquila come forse ricorderete la primissima cosa che fa è domandare a Dante Come mai osa con la vista corta di un palmo giudicare di mille miglia Poi però dopo questo diciamo avvertimento diciamo severo dell'aquila cerca la soberbia che implica voler capire i criteri di giustizia di Dio Apri la possibilità nel giudizio finale che anche i non cristiani si edano più vicini a Dio di quelli che si dicono cristiani ma in verità non si comportano come tali E da quella osservazione come ricorderete l'aquila fa partire un discorso sui re cristiani peccaminosi Attraverso un elenco che come notavamo la settimana scorsa integra nella seconda generazione l'elenco dei principe che nella valle del Purgatorio aveva indicato sordello E quindi l'aquila una delle cose che aveva che avevano attirato fortemente l'attenzione di Dante per cogliere la quale diciamo Dante ci aveva avvertito sulla sua inaudita novità Era il fatto che essendo concerta cioè conformata da una quantità plurale chiaramente di anime ciò nonostante parlare in prima persona singolare Questo canto invece si apre con una immagine sinestesica cioè che mette a contatto due sensi in particolare quello del dito Che è quello che Dante appunto visse come pellegrino con quello della vista con cui si apre questo canto Che cerca di rendere in un modo molto bello il passaggio dall'unità di questo discorso in prima persona singolare dell'aquila Alla molteplicità dei canti che cominciano a intonare le anime che conformano l'aquila E quindi Dante lo dice così quando colui che tutto il mondo alluma cioè quando il sole che illumina tutto il mondo dell'emisferio nostro si discende che il giorno d'ogni parte si consuma Cioè scende dall'orizzonte nostro settentrionale così tanto che il giorno finisce si consuma comincia a calare da tutte le parti Lo cielo che sol di lui prima si accende subitamente si rifà parvente per molte luci in che una risplende Cioè il cielo che prima si accendeva solo del sole immediatamente si fa di nuovo parvente cioè visibile attraverso molte luci nelle quali risplende una Cioè le stelle quindi Dante sta cercando di portarci alla memoria quel momento del tramonto in cui la luce unica del sole viene sostituita dalla plurima luce che emana dalle stelle E perché ce lo dice? Al verso 7 e questo atto del cielo mi venne a mente cioè mentre io ero pellegrino ed ero in mezzo a Giove Questa situazione del cielo nella quale una luce si spegne per far luogo a molte luci io lo ricordai Come il segno del mondo e dei suoi ducci nel benedetto rostro futtacente Però che tutte quelle vive luci vi è più lucendo cominciaroncanti da mia memoria labili e caduce Cioè questo io lo ricordai quando il sole viene sostituito dalla luce di molte stelle Non appena il segno del mondo e dei suoi governanti cioè l'aquila Tacque cioè finisce di parlare nel suo becco benedetto Perché perciò che tutte quelle luci vive che conformano l'aquila facendosi più lucide più lucicanti Cominciarono canti diversi che la mia memoria non ha potuto conservare Cioè dalla mia memoria labili e caduci cioè effimeri Quindi così come quando il sole si pone e cominciano a vedersi nel cielo molte luci Così quando tacque la voce diciamo univoca singolare corale dell'aquila Viene sostituita da voci singolare quindi da una polifonia formata dalle luci singole delle anime che conformavano l'aquila Quindi è interessante questo diciamo passaggio dall'unità alla pluralità che si dà nelle voci Perché implica chiaramente che mentre l'aquila aveva voluto sottolineare l'unità della giustizia divina Nel rapportarsi con Dante per parlare di un argomento molto pregnante come quello appunto del carattere imprescruttabile della giustizia divina Nel momento in cui le anime cantano gioiose l'amore di Dio diventano di nuovo individui Che si rapportano intimamente individualmente ognuno al suo modo con Dio E Dante quindi il Dante scrittore esclama al verso 13 O dolce amore che di riso tammanti Quanto parevi ardente in quei flailli che avvieno spirito soldi pensier santi Allora o dolce amore che ti fasci ti avvolgi di riso Di sorriso Quanto parevi ardente l'amore appunto di Dio In quei flailli la parola flailli è molto discussa secondo alcuni vuol dire fiamme Secondo altre vuol dire flauti strumenti di vento E quindi non si sa esattamente a quale dei due sensi che sono stati interessati dalla sinestesia precedente La vista o l'udito faccia riferimento a questa figura Forse a entrambi ma chiaramente indipendentemente si tratti di fiamme o di flauti fa riferimento agli spiriti Vero che conformano l'aquila che avevano spiriti solo di pensieri santi Quindi evidentemente l'amore di Dio in loro brillava particolarmente E adesso al verso sedicesimo comincia un bellissimo frammento di carattere uditivo Attraverso il quale Dante ci rende la effluenza con la quale Tacciono le voci delle anime che conformano l'aquila E l'aquila comincia a parlare Di nuovo parlerà in prima persona singolare nel rivolgersi a Dante come vedremo Ma Dante si sofferma come ha già fatto un paio di volte nell'inferno Sul fenomeno fonatorio e sul passare del suono dal suo corpo vibrante da cui nasce Attraverso il tubo insomma delle voci In questo caso la gola di quest'aquila miracolosamente formata di spiriti E ciò nonostante parlante come se avesse tre dimensioni Che viene paragonata con ben tre suoni della natura diversi che ora vedremo Della natura e della cultura anche no? Perché prima c'è un fiume che scorre chiaro nelle pietre Poi ci sono ben due strumenti musicali che Dante usa per paragonare questo suono Allora verso 16 Poscia che i cari e luci di lapilli Un Dio vidi ingemmato il sesto lume Poser silenzio agli angelici squilli C'è una volta che i cari e luci di lapilli sono pietre preziose Di cui io vidi che si ingemmava Si abbelliva come di pietre Il sesto lume, il sesto pianeta appunto Giove Ebbero fatto silenzio nei loro squilli angelici Nei loro canti Udir mi parve un mormorar di fiume che scende chiaro giù di pietra in pietra Mostrando l'ubertà del suo cacume Cioè mi parve udire quando loro tacquero come voci singole Un mormorare di fiume che scende giù di pietra in pietra chiaro Mostrando la ricchezza della sua fonte Questa immagine è bellissima perché Se da una parte diciamo desta in noi la memoria che abbiamo di un fiume puro E il rumore dell'acqua che scende diciamo tra le pietre Credo che sia probabilmente uno dei più piacevoli per ogni essere umano Anche perché viene di solito associato alla sete del cammino in montagna E quando uno sente questo bel rumore dà anche speranza di poter bere Ma oltre a questa esperienza del mondo è interessante come Dante Come scrittore stia anticipando l'immagine della sorgente Dalla quale scende un fiume che come vedremo tra un po' Verrà ripresa metaforicamente per indicare la grazia divina Che scende da fonti così alte che non possiamo scorgerle Allora Dante sente che tacciono le voci di questa musica polifonica Che facevano le anime e sente questo rumore come d'acqua E al verso 22 è come suono al collo della cetra Prende sua forma cioè come nella parte superiore della cetra E lo strumento musicale il suono prende la sua forma E siccome al pertugio della sampogna vento che penetra E come nella sampogna la corna musa Fa diventare un suono musicale il vento che entra Così rimosso da aspettare l'indugio Cioè così abbandonando ogni indugio Quel mormorar della guglia salissi su per lo collo come fosse bugio Quel mormorare vedete che Dante riprende il mormorio dell'acqua Che gli è sembrato di sentire prima Uscì dal collo dell'aquila attraverso il becco Chiaramente come se fosse cavo vuoto Come se avesse una terza dimensione Vi ricordate che Dante ha già dimostrato Di aver fatto attenzione Di essere molto interessato alla produzione della voce umana Dal punto di vista proprio diciamo articolatorio e sonoro Sia nel descrivere la difficoltà di Pier della Vigna Di far uscire parole umane dal suo corpo arboreo Sia chiaramente dalle fiamme del Bolgia di Ulisse E di Guido da Montefeltro Che producono rumore crepitivo di fuoco Prima di diventare, di far passare la voce umana Dell'anima che vi è nascosta, vero? Questa volta miracolosamente Quest'aquila che in realtà è un disegno Conformato da luci Attraverso quest'immagine Dei due strumenti attraverso i cui Diciamo corpi Esce il suono Dante ci rende l'idea di una corporeità Diciamo dell'aquila Che prima non avevamo E allora il verso 28 Fecesi voce quivi E quindi uscissi per lo suo becco in forma di parole Quali aspettava il core Ovvio le scrissi Cioè lì, nel collo Diventò voce umana Voce diciamo in una lingua comprensibile E quindi si uscì attraverso il becco in forma di parole Parole che erano quelli che si aspettava il mio cuore Dice Dante molto sinteticamente E voci che scrissi Impresse nel cuore Cioè questa centralità della parola a cuore nel verso 30 È molto importante perché Vi ricordate che Dante diciamo Quando si riferisce alla sua memoria di pellegrino Destinata a diventare materia del suo poema di scrittore Molto spesso parla della mente Fin dal secondo canto dell'inferno Quando fa la breve prima invocazione alle muse Dante dice O mente che scrivesti ciò che ovvidi Quindi c'è la stessa metafora della scrittura Per il fatto di ritenere nella memoria Ciò che lui esperimentò nel viaggio Invece le volte che sono di meno Parò significativamente Sono raggruppate soprattutto Nell'ultima parte del paradiso In cui Dante anziché Dire di aver segnato O scritto nella sua mente L'esperienza vista O le parole ascoltate Parla del cuore E perché si tratta appunto di Esperienze In questo caso parole Che sono quelle che adesso sta per Mettere nel libro Che sono quelle che ascoltò Dal becco dell'aquila Sono state particolarmente importanti Per lui e per il suo bisogno affettivo E non tanto razionale E quindi ci prepara Attraverso questa dichiarazione Che le parole erano attese Dal suo cuore E lì lui le scrisse E da lì dal suo cuore Le sta trascrivendo nel libro Ci prepara appunto Ad ascoltare un discorso Specialmente importante Per la pace Dell'anima di Dante E allora l'aquila Al verso 31 Dopo diciamo essersi Divisa Nella polifonia Scompaginata Delle diverse voci Ora passa di nuovo Quando si rivolge a Dante Alla prima persona singolare E dice La parte in me Che vede Pate il sole Nella buio e mortali Incominciammi Or fisamente riguardarsi Vole Perché Dei fuochi Onde io figura Fommi Quelli Onde l'occhio In testa Mi scintilla E di tutti I loro gradi Sono gli sommi Allora L'aquila Annuncia a Dante Che ora Presenterà Lui Le anime Che formano Il suo occhio Come disegno Che sono le più importanti E lo dice così Allora La parte in me Che vede E patisce Tollera Il sole Nelle aquile mortali Cominciò L'aquila Ideale A dirgli Cioè L'occhio Siccome Vi ricordate Questo disegno Dell'aquila Che è formato Dalle ali Una testa Di profilo Dante Vede solo un occhio Dell'aquila Va bene Allora Ora È necessario Si vuole Guardare Fissamente Quindi sta invitando Dante A fissare lo sguardo Sull'occhio Conformato Come ora Vedremo Da Sei luci Una che sarebbe La pubilla E cinque Che fanno L'arco Sopracciliare Che sono Come dice L'aquila Qui Dei fuochi Cioè Degli spiriti Infiammati Di cui Io Mi faccio Figura Quelli Attraverso i quali Mi scintilla L'occhio Nella testa Sono I sommi Di tutti I loro gradi Quindi Degli spiriti Giusti Che ha Dante Dato di vedere Nel cielo Di Giove Le anime Che più godono Della visione Di Dio Di Dio Quindi le più Altolocate Del Del Loro Reame Del Della loro Tipologia Sono Queste Che conformano L'occhio Dell'aquila Va bene? Quindi ci stiamo Preparando Con Dante A conoscere Questi personaggi Estremamente Giusti Che Cui Tocca L'onore Di conformare L'occhio Della figura Dell'aquila Figura Dell'impero Vero? Allora inizia A presentare Questi Queste luci E inizia Da quella centrale Dell'occhio Verso 37 Colui Che luce In mezzo Per pupilla Fu il cantor Dello spirito Santo Che l'arca Traslatò Di villa In villa Ora Conosce Il merto Del suo Canto In quanto Effetto Fu del suo Consiglio Per lo Remunerare Che è Altrettanto Allora Quello Che Diciamo Brilla In mezzo A quest'occhio Come pupilla Fu Davide Ricordate Ricordato Qui No Come L'autore Dei salmi Perciò Il cantor Dello spirito Santo Cioè Quello Che Scrisse I salmi Sotto Ispirazione Divina Che Traslatò L'arca Da una città Nell'altra Vi ricordate Che questo Stesso Episodio Della Traslazione Dell'arca È quello Che È Scolpito Nell'altorilievo Del Purgatorio Nella prima Cornice Dove Fanno Penitenza I superbi Come Esempi Di Umiltà E al Verso 40 Ora Conosce Il merito Del suo Canto Cioè Della Redazione Appunto Dei salmi In quanto Questo fu Effetto Del suo Consiglio Cioè Della sua Libera Scelta Di uomo E conosce Questo Merito A causa Del premio Del remunerare Che è altrettanto Che si addice Perfettamente Al merito Ora Qui ci sono Molte cose Interessanti Da notare Intanto Il fatto Che Il primo Re Ci potevamo Aspettare Che Le luci Somme Che conformano L'aquila Simbolo Dell'impero Fossero Re Visto Che Nella Diciamo Nel versicolo Biblico Della Sabienza Che aveva Conformato Che queste stesse Anime Avevano Conformato Prima di Diciamo Figurare L'aquila C'era Questo Precetto Di Prediligere La giustizia Chi Appunto Regge Nel mondo Chi governa La terra Vero E poi Perché Il canto Precedente Si era Chiuso Con questa Invettiva Contro I re Cristiani Che non Fanno Il loro Dovere Quasi Diciamo In contrasto Contro Quelli Che Prediligono La giustizia Quindi Che sia Il re Davide Potrebbe Essere Abbastanza Scontato Quello Che è Molto Interessante Che lo Si ricordi Intanto Come Cantore E quindi Come scrittore Dei salmi Questo È significativo Perché Diciamo Dante Anche In qualche Modo Scriverà Un poema Dettatogli Dallo Spirito Santo Quindi È come Se Attraverso Questo Ricordo Della Poesia Scritta Da Davide Si stia Di nuovo Alludendo Dalla Contiguità Tra La Militanza Per La Giustizia E L'esercizio Poetico Ma Poi È interessante Che lo Si ricordi Per lo Stesso Evento Questo Quest'arca Traslata Da una Villa Nell'altra Per cui Lo Si era Ricordato Nel Purgatorio Come Segno Di Umiltà Quindi È Interessante Che Il Tratto Più Diciamo Associato Alla Giustizia Di Un Re Sia L'umiltà La Stessa Cosa Succederà Ora Come Vedremo Con La Seconda Anima Che Indicherà L'Aquila E L'altra Cosa Molto Importante Che Si Presenta Qui Implicitamente Ma Che Ci Aiuterà Anche A Capire La Seconda Parte Del Canto E Questa Questa Attribuzione Al Canto Cioè Alla Redazione Dei Salmi Della Libera Scelta Di Cioè Il Consiglio Che Convive Misteriosamente Con Il Fatto Che Questo Questi Salmi Sono Diciamo Ispirati Dallo Spirito Santo Cioè Perché In questo Scrivere I Salmi Convivono In un Modo Inspiegabile A noi Umani Il Libero Arbitrio Cioè La Decisione Libera Consapevole Di Davide E L'Ispirazione Divina Allo Stesso Tempo E Questa Convivenza Tra Volontà Divina Chiaramente Onnipotente E Libertà Di Ogni Singolo E Cioè La Persistenza Del Merito Individuale Nonostante Il Ruolo Providenziale Che Ognuno Di Noi Ha Nel Piano Divino E Uno Dei Misteri Di Cui Si Tratterà Nella Seconda Parte Del Canto Attraverso Questo Verso 40 Che Inizia Ora Conosce Dante Comincia Diciamo Una Anafora Che Attraverso La Quale Presenterà Tutte Le Luci Che Conformano Il Cielo Ed È Interessante Perché A Differenza Di Altre Anafore Di Cui Si È Servito In Altri Episodi Questa Volta Ogni Personaggio Verrà Come È Il Caso Di Davide Presentato Attraverso Due Terzine La Prima Inizia La Prima Per Ogni Personaggio Inizia In Modo Diverso Colui Che E Quel Che L'altro Che Segue Va Bene Quindi Va Variando L'individualità Attraverso La Quale Si Dice Chi È Il Personaggio E Che Cosa Fece Ma L'anafora Che Ripete Ora Conosce Ora Conosce Ora Conosce In Tutti I Casi Mette Sullo Stesso Piano La Condivisione Della Rivelazione In Dio Del Merito Della Pace Del Valore Della Propriazione Nel Mondo Questo Accomuna Tutte Queste Anime Cioè Fecero Cose Diverse Sono Personaggi Molto Diversi Come Ora Vedremo Ma Sono Ora In Paradiso Nella Situazione Identica Della Conoscenza Del Valore Delle Delle Proprio Opere Dentro Il Piano Divino Allora Al verso 43 Inizia L'Aquila Invece A presentare Le cinque Anime Che Conformano Il suo Arco Sopracciliare Diciamo Che È Attorno Alla Pupilla Imperatore Pagano Che Secondo Una Leggenda Che Dante Conferma Qua Come Testimono Oculare Grazie Alle Preghiere Di San Gregorio Magno Era Tornato In vita Dopo Essere Morto E Andato All'Inferno Al Limbo Si era Convertito Al Cristianesimo E quindi Era morto Cristiano Questa Era una Leggenda Che era Stata Diciamo Confermata Come Vera Da San Tommaso E che Qui Dante Sembra Di Seguire Tranquillamente Ma Anche Qua Osserviamo Lo stesso Che Avevamo Detto Per Quel Che Riguarda Davide Cioè Che Lo si Ricorda Per lo Stesso Episodio Quello Anche Questo Diciamo Raffigurato Nella Prima Cornice Del Purgatorio Segno Di Umiltà Ricorderete La Magistrale Inedita Verosimiglianza Di Questo Alto Rilievo Che Dante Vede Nella Parete Diciamo Della Prima Cornice Purgatoriale L'abbiamo Letto Nel Canto Decimo Del Purgatorio Per chi Non se Lo ricorda Può Tornare A leggere Queste Scene Che Sono Talmente Realistiche Che A Dante Sembra Di Vedere Come Si Muovono Le Bandiere Imperiali Di Traiano Che Con I Suoi Cavalli Il Suo Esercito Viene Diciamo Frenato Da Una Vedova A piedi Che Lo prega Di fargli Giustizia Per il Figlio Che è Stato Assassinato E lui Inizialmente Dice Che sta Partendo In Campagna Che non Lo può Fare Lei Gli Dice Ma Se Se Voi Non Tornate Dalla Campagna Militare E lui Risponde Vabbè Chi Sarà Nel Mio Luogo Ti Farà Giustizia E Lei Risponde Una Cosa Molto Interessante Che Ora Diciamo Vedendo Traiano Salvo Possiamo Integrare Lei Gli Dice E Il Bene Che Mi Farà Un Altro Cioè Un Altro Imperatore Che Occuperà Il Tuo Ruolo Che Bene Farà A Te Questa Verità Stupenda Secondo Cui La Virtù Non Solo È Nei Confronti Del Prossimo Ma Implica Un Bene Per La Persona Che L'esercita La Virtù Messa In Bocca Di Un Personaggio Totalmente Privo Di Potere Donna Vedova Senza Un Figlio Maschio Che La Difenda Viene Accettata Umilmente Dall'imperatore Che Addirittura Diciamo Si sofferme Dice Ti farò Giustizia Ora Quindi Questa Scena Che Qui Viene Ricordata Molto Velocemente La Vedovella Consolò Del Figlio È Seguita Appunto Da Questa Anafora Ora Conosce Cioè Traiano Conosce Ora Essendo Già Salvo Quanto Caro Costa Non Seguir Cristo Per L'esperienza Di Questa Dolce Vita E Dell' Opposta Questo È Anche Molto Interessante Perché Traiano Eccezionalmente Conosce Per una Doppia Esperienza Sia La Dolce Vita Del Paradiso Sia L'opposta Quella Dell'inferno Perché Lui Prima Di Essere Diciamo Fatto Tornare In Vita Conobbe La Realità Del Limbo Dell'esclusione Dalla Visione Beatifica E Quello Che Dante Ci dice Attraverso La Voce Dell'Aquila È Che Solo Ora Essendo In Paradiso Capisce Quanto Costa Non Seguir Cristo Cioè Non È Un Costo Che Lui Avvertì Essendo Nel Limbo Ma Solo Conoscendo La Salvezza Si Rende Conto Del Prezzo Che Pagano Quelli Che Sono Nell' Inferno Questo È Diciamo Un Significato Diciamo Che Attraversa L'intera Commedia E cioè Il fatto Che Il La Condizione Vera Profonda Dei Dannati Dell'inferno Indipendentemente Dal cerchio Dove vanno A finire E dal Contrapasso Sensoriale Che tocca Ad ognuno A seconda Del Peccato Commesso È Invece La Privazione Della Visione Beatifica E quindi È gravissima Pure Quella Di Coloro Che Non Hanno Un Contrapasso Fisico Come Sono Appunto Le Anime Del Limbo Ma È Anche Un Significato Che Attraversa La Commedia E che Riguarda La Nostra Esperienza Di Lettura E cioè Il Fatto Che Chi Di Noi Ha Letto Anche Il Paradiso Come State Facendo Voi Solo Dalla Lettura Del Paradiso E Dalla Descrizione Inevitabilmente Parziale Ma Tuttavia Sconvolgente Di Solo Lì Quando Leggiamo Questa Terza Cantica Riusciamo A dare Un Vero Significato All'Inferno Come Libro Che È Innanzitutto Privazione Di Questa Bellezza Oltre Al Contrapasso Che Abbiamo Imparato A Soffrire Mentre Leggevamo L'Inferno Allora L'Aquila Ha Presentato Finora La Sua Pupilla Cioè Il Re David L'Imperatore Troiano Finora Abbiamo Personaggi Diciamo Monarchici Molto Altolocati Adesso Passa A Parlare Della Seconda Luce Che Conforme Il Suo Ciglio Verso 49 E Quel Che Segue La Circonferenza Di Che Ragiono Per L'Arco Superno Morta Indugiò Per Vera Penitenza Ora Conosce Che il Giudicio Etterno Non Si Trasmuta Quanto Degno Preco Fucrastino Laggiù Dell'Odierno Cioè Quello Che Segue Nella Circonferenza Di Cui Sto Parlando Seguendo Verso L'alto Da Quella Luce Più Vicina Al Becco Che Traiano Andando Verso L'alto Indugiò La Morte Per Fare Una Vera Penitenza Questo Ezechia Il Re Di Giuda Che Essendo Stato Cioè Avendo Ricevuto Una Profezia Da Isaia Sulla Sua Prossima Morte Aveva Chiesto A Dio Di Dargli Più Tempo Dante Evidentemente Interpreta Che Questa Richiesta Di Ezechia È Associata A Una Visione Che Lui Aveva Avuto Secondo Cui Stava Per Arrivare Alle Porte Dell'Inferno E Che Quindi La Richiesta Era Una Richiesta Di Penitenza Cioè Di Anni Per Appunto Salvarsi E Ed Ezechia Infatti Dio Concedette Altri Quindici Anni Di Vita Durante I Quali Secondo La Visione Di Dante Si È Diciamo Convertito Dal Peccato Alla Virtù Quindi Ora Conosce Verso 52 Ora Conosce Che Il Giudice Eterno Non Si Trasmuta Cioè Che La Volontà Di Dio E Quindi Il Destino Di Ogni Essere Umano Non Si Modifica Quando Una Preghiera Degna Di Essere Ascoltato Rende Crastino Cioè Passa A un Futuro All'indomani Laggiù Nel Mondo Quello Che Bisogna Fare Oggi E Cioè Come Una Giusta Preghiera In realtà Anche Se Si Può Avere La Sbagliata Impressione Che Modifichi La Volontà Di Dio In Realtà La Sta Assecondando In Un Modo Misterioso Questo E Anche Interessante Perché Sarà Legato Alla Spiegazione Sulla Salvezza Straordinaria Di Traiano Anche Qui Diciamo Per La Apparente Trasmutazione Del Giudizio Divino A Partire Da Una Preghiera Mentre Invece Come Si Spiegherà A Proposito Di Traiano E Anche Di Un Altro Personaggio Che Non Abbiamo Ancora Nominato Nella Nostra Spiegazione Dio Acconsente Si Lascia Vincere Da Una Preghiera Perché Quello Che La Preghiera Domanda È Qualcosa Che In realtà Dio Vuole Che Gli Venga Richiesta Lo Vedremo Un Po Pi Avanti Allora Passa L'Aquila Al verso 55 A Indicare La Terza Delle Luci Che Formano Il Suo Ciglio L'altro Che Segue Con Le Legi E Meco Sotto Buona Intenzione Che Ferma Il Frutto Per Cedere Al Pastor Si Fece Greco Cioè Quello Che Segue Chiaramente L'imperatore Costantino Con Con L'insegna Dell'impero Sotto Una Intenzione Buona Cioè In buona Fede Fece Il Malfrutto Cioè Si sta Riferendo Alla Donazione Di Costantino Di cui Ha Parlato Vi Ricordate Per la Prima Volta Nel Diciannovesimo Dell'inferno Quando Davanti Ai Simoniaci Dante Ricorda L'origine Di Questo Arricchimento Peccaminoso Della Chiesa Proprio In questa Donazione Che Secondo Un documento Falso Che L'epoca Di Dante Dante Compreso Credeva Vero Costantino Avrebbe Donato Roma E Parte Gran Parte Dell'impero Occidentale Al Papa Silvestro Quindi Il Fatto Che Costantino Sia Salvo Nonostante Come Aveva Detto Dante Nel Diciannovesimo Dell'inferno Da Questa Donazione Derivò La Rovina Del Mondo Infatti Lui Dice Hai Costantino Di Quanto Mal Fu Matre Non La Tua Conversione Ma Quella Dote Cioè Il Regalo Che Fece Il Primo Cioè Fece Ricco Il Primo Padre E Cioè Questo Ossimoro Per Dante Cioè Che Un Papa Diventasse Ricco Nonostante Appunto Il Malfrutto Come Viene Detto Qui Al Verso 56 Che Derivato Dall'adonazio Costantino Siccome Aveva Agito In Buona Fede E Salvo Perché Non Poteva Conoscere Le Conseguenze Che Sarebbero Derivate Da Questo Suo Gesto Allora Costantino Che Sotto Buon' Intenzione Che Fe Il Malfrutto Per Cedere Al Pastor Cioè Per Regalare Roma Al Papa Si Fece Greco Cioè Trasferì La Sede Imperiale A Bisanzio Ora Conosce Come Il Mal Dedutto Dal Suo Bene Operar Non Gli È Nocivo Avvenia Che Sia Il Mondo Indi Distrutto Cioè Ora Conosce Come Nonostante Il Male Che È Derivato Dal Suo Operare Sia Appunto Tremendo Questo Non Gli Nuoce Cioè Non L'ha Mandato In In Inferno Anche Se Il Mondo Da Questo Suo Operare In Buona Fede Sia Distrutto Quindi Questa Una Distinzione Tradizionale Della Teologia Secondo Cui L'essere Umano Nella Sua Limitata Conoscenza Di Ciò Che Può Avvenire In Futuro Può Agire In Buona Fede E Quindi Salvarsi Nonostante Derivi Un Grande Male Da Quello Che Ha Fatto Così Come A Volte Nel Misterioso Piano Divino Qualche Bene Può Venire Fuori Dal Male Operare E Questo Non Rende Salva La Persona Che Ha Agito Male No Abbiamo Dato Come Esempio Opposto A Questo Di Costantino Quello Per Per esempio Di Caifà O Addirittura Di Giuda No Perché Tutti Quelli Che Collaborarono Tradendo Cristo Consegnandolo Vendendolo Stavano In realtà Cioè Svolgendo Un piano Che doveva Avverarsi Per Riconciliare L'umanità Con Dio Ma Non Sapendolo Giuda Caifà Ponzio Pilato Presero Decisioni Che Erano Un male E Quindi Sono Puniti Chiaramente Indipendentemente Dal bene Che È Venuto Fuori Dalla Morte Di Cristo Vero Quarta Luce Che Presenta L'Aquila Al verso Sessantuno E Quel Che Vedi Nell'arco Declivo Cioè Quello Che Vedi Che Ormai Quando Sta Scendendo L'arco Che È Attorno Alla Alla Luce Di Davide Guglielmo Fu Cui Quella Terra Plora Che Piagne Carlo E Federico Vivo Questo Guglielmo Secondo D'Altavilla Che Era Molto Virtuoso Chiamato Il Buono Di Cui Addirittura I cronisti Dicevano Che Aveva Portato Il Sud Italia A Una Condizione Quasi Di Paradiso Terrestre Chiaramente Era Impianto Dalla Terra Della Puglia Della Sicilia Perché Ora Piangono Vivi Carlo II D'Angio Re Di Napoli Federico II D'Aragona Re Re Sicilia Che Sono Tra Quei Re Cristiani Deplorati Nel Canto Precedente Nel Diciannovesimo Quindi Un Altro Re Abbiamo Visto Imperatori Re Ora Conosce Al Verso 64 Come Si Innamora Lo Cielo Del Giusto Regge E Al Sembiante Del Suo Fulgore Il Fa Vedere Ancora Cioè Ora Conosce Come Il Cielo Si Innamora Si Lascia Innamorare Da Un Re Giusto Come Se Dio Si Sorprendesse Di Un Buon Governante E Lo Amasse Particolarmente E Il Fulgore Così Intenso Lo Rende Visibile Anche A Noi Come Dio Si Innamora Il Cielo Si Innamora Del Re Giusto Anche Questo È Un Modo Di Porre La La Salvezza In Termini Alquanto Complessi Da Capire Perché L'innamoramento Di Solito È Qualcosa Che Riguarda Noi Umani Di Qualcuno Qualcosa Di Uguale O Superiore Che Il Cielo Si Innamori Di Un Umano Di Un Re Giusto È Un Modo Chiaramente Metaforico Ma Che Sta Annunciando La Volontà Di Dio Di Lasciarsi Innamorare Dal Bene Umano Che Un'idea Un'idea Molto Bella Che Apparirà Nella Seconda Parte Del Canto Cioè Io Dico Del Canto Ma Dovrei Dire Della Lezione Perché Siamo Noi Che Interrompiamo La Lettura Non Che Dante Dica È Finita La Prima Parte Vero Allora Dopo La Presentazione Di Questa Quarta Luce Ne Manca L'ultima La Quinta Che Quella Più Sconvolgente Al verso 67 E L'Aquire Evidentemente È Consapevole Che Né Dante Né Noi Ci Potremmo Aspettare Questa Posizione Di Salvezza Così Altolocata Di Questo Personaggio Che Presenta Ora Chi Crederebbe Giù Nel Mondo Errante Che Rifeo Troiano In Questo Tondo Fosse La Quinta Delle Luci Sante Cioè Chiaramente Una Domanda Retorica Che Vuol Dire Nessuno Nel Mondo Che Non Comprende Potrebbe Immaginare Che Rifeo Sia La Quinta Di Queste Luci Sante Che Formano L'Occhio Dell'Aquila Effettivamente La Presenza Di Rifeo In Questo Cielo E Addirittura Come Una Delle Sei Più Altolocate Anime Giuste È Una Cosa Svalorditiva Perché Mentre Per gli Altri Io vi Ho Potuto Dire Voi Avete Riconosciuto Immediatamente Questi Personaggi Politici Importantissimi Re Dell'Antico Testamento Imperatori Monarchi Diciamo Italiani Invece Rifeo È Un Personaggio Minorissimo Dell'Eneide Senza Alcun Potere Non È Un Re Non È Un Imperatore È Un Giovane Che Appare Nell'Eneide In Un Discorso Che Enea Fa Di Done Quando Gli Sta Raccontando La Caduta Di Troia Gli Dice Cadit Rifeus Cioè E Cadde Anche Rifeo Justissimus Unus Cioè Giustissimo Qui Fuit Intecris E Servantissimus Aequi E Cioè Giustissimo Tra I Teucri E Osservantissimo Cioè Il Più Rispettoso Delle Leggi E Poi La Voce Di Virgilio Aggiunge Disaliter Visum Cioè Gli Dei Lo Videro Altrimenti Cioè Lo Considerarono In un Altro Modo Cioè Perché Vi sto Citando Questo Brevissimo Passaggio Delle Eneide Dedicato A Rifeo Che Nessuno Si Spetterebbe Poi Che Avrebbe Raggiunto Questa Notorietà Letteraria Attraverso La Commedia Di Dante Perché È Uno Dei Mille Personaggi Delle Eneide Cui Virgilio Dedica Un Verso E Mezzo Ma È Un Verso E Mezzo Molto Importante Per Noi Lettori Di Dante Perché Implica Una Lettura Di Dante Molto Attenta Alle Parole Di Virgilio E Soprattutto A Questa Sorta Di Doppio Registro Che C'è Nell'Eneide E Che Rende Tra Le Altre Cose L'Eneide Un Libro Davvero Stupendo E Che Il Fatto Che Virgilio Come Narratore Non Solo Racconta Le Vicende Le Grandi Battaglie E Le Disventure E Le Morti Insomma Tutto Ciò Che Accade A Enea Da Quando Parte Da Troia Fino A Quando Diciamo Non Si Stabilisce Nel Lazio Ma Va Intercalando A Questa Narrazione Di Grandi Eventi Che Obidiscono Chiaramente Al Destino Al Fatto Alcune Eh Alcuni Commenti Come In Sordina Dove Il Narratore Si Sdoppia In Una Voce Di Commiserazione Su Tutti Quelli Che Apparentemente In Un Modo In Giusto Dovettero Morire Affinché Il Fatto Si Realizzasse E Questo Breve Sintagma Di Saliter Visum Cioè I Dei E Diciamo Ebbero Un'altra Visione Di Lui Di Rifeo E Appunto Uno Di Questi Passaggi In Cui Molto Brevemente Virgilio Si Lamenta Che Un Giovane Giustissimo Giustissimo Nel Senso Latino Del Superlativo Assoluto Che Vuol dire Il Più Giusto Il Più Osservante Della Giustizia Morisse Giovane Quando Cade Troia Si Lamenta Virgilio Gli Dei Evidentemente Non lo Considerarono E lo Fecero Morire Vero Ora Il Fatto Che Dante Stia Vedendo Rifeo Nel Paradiso È Una Sorte Di Stupenda Risposta Cristiana A Questo Breve Lamento Pagano Di Virgilio Cioè Se Virgilio Non Essendo Cristiano Non Poté Capire Che La Misericordia Del Vero Dio Incomprensibile Non Permette Di Fare Previsioni Su Come Diciamo Quale Sarà Il Destino Di Un Uomo Se Gli Dei Pagani Secondo Virgilio Non Videro La Giustizia Estrema Di Questo Giovane Il Dio Cristiano Si Lo Premiò E Quindi Ora Avremo Modo Di Parlare No Di Questa Stranissima Presenza Perché Appunto Dante Esprimerà Molto Spontaneamente La Sua Perplessità Di Fronte A Questa Presenza Ma Intanto Diciamo Dovendo Scomodare Le Neide Per Sapere Chi È Rifeo Anche Noi Dovremmo In Qualche Modo Adeguarci A Questo Stupore Di Dante Per Ottenere Da Parte Dell'Aquila Una Spiegazione Soddisfacente Allora Dopo aver Presentato Rifeo Attraverso Questa Domanda Retorica Che Implica La Diciamo Il carattere Del Tutto Sorprendente Della Sua Salvezza Il Verso 70 Per L'ultima Volta Riprende L'anafora Ora Conosce L'Aquila Ora Conosce Assai Di Quel Che Il Mondo Vederno Un Po Della Divina Grazia Benché Sua Vista Non Discerne Il Fondo Cioè Attraverso Quest'ultima Terzina Della Presentazione Delle Luci Che Formano Il Suo Occhio L'Aquila Sta Ponendo Un Argomento Era stato già anticipato nel canto diciannovesimo Cioè La Impossibilità di conoscere i criteri divini Ma In quel momento Diciamo Dante aveva domandato Sull'apparente Ingiustizia Della giustizia divina Qui invece si sta parlando Della misericordia Della salvezza di qualcuno Che secondo La regola Ferrea Secondo cui Chi non ebbe Fede cristiana E nell'inferno Viene Insomma Capovolta Da una decisione Così incomprensibile Quindi dice Che Rifeo Ora conosce Molto Della grazia divina Di quello che il mondo Nella terra Non può vedere Benché Nemmeno la sua vista Cioè la vista Di uno salvo Nel cielo di Giove Discerna Non possa discernere Il fondo Cioè Così come Nel canto precedente Si è sviluppato L'argomento Del carattere Insondabile Dei criteri Di giustizia Non solo Per noi umani Ma neanche Per Lucifero Prima della Ribellione Quando era L'angelo Più Alto La somma Di tutte le creature Anche qua In chiusura Di questa presentazione L'aquila Parla Del carattere Imprescruttabile Della grazia Che si dà In un modo Apparentemente Alleatorio Ma perfettamente Giusto Perché deriva Da Dio Non solo Per noi umani Ma anche Per un salvato Stesso Che chiaramente Essendo in paradiso Conosce molto Di più Della grazia Di quello Che possiamo Conoscere Noi mortali Ma tuttavia Non può Conoscere Il fondo Allora Dopo aver detto Queste parole L'aquila Che era stata Vi ricordate Nel canto scorso Paragonata A un falcone A una cicogna Ora viene Paragonata A una Allodola A una Allodetta Che si mette A cantare Volando Contenta Dell'ultimo Che ha mangiato O E tace Contenta Dell'ultimo Che ha cantato E l'ultimo E appunto Rifeo Questa presenza Del tutto Inattesa Quale Allodetta Che in aere Si spazia Prima cantando E poi Tace Contenta Dell'ultima Dolcezza Che la Sazia Tal Mi sembiò L'imago Dell'imprenta Dell'eterno Piacere Al cui Disio Ciascuna Cosa Quale Le Diventa Cioè L'Aquila Cioè Canta Come Assaporando La dolcezza Di quest'ultima Cosa Che ha detto Della Sbalorditiva Salvezza Di Rifeo Poi Poi Tacque E l'Aquila Viene Nominata Ai versi 76 Fino al 78 Come L'immagine Imprenta Da Dio L'eterno Piacere Secondo il cui Desiderio Il desiderio Di Dio Ogni cosa Diventa Quella Che è E cioè Raggiunge La sua Vera Essenza E il povero Dante Talmente Sconvolto Dalla Salvezza Di Traiano Ma soprattutto Di Rifeo Che nonostante Sia consapevole Che in paradiso Non è necessario Parlare Perché tutti Sanno In Dio Quello che lui Sta pensando Non può evitare Di esclamare Che cose Sono queste Che E questo No Con veramente Una colloquialità Disarmante Verso 79 Dove Leggiamo in Dante Quello che vi ho Adesso anticipato Malamente E avvegna Che io fossi Al dubbiar Mio Lì quasi vetro Allo color Che il veste Cioè nonostante Io fossi Diciamo Rispetto Al mio dubbio Come un vetro Che veste Un colore Quindi trasparente Per le anime Tempo Aspettartacendo Non patio Cioè Il mio dubbio Non sopportò Aspettare In silenzio Ma dalla bocca Che cose Sono queste Mi pinse Mi pinse con la forza Del suo peso Cioè ma Mi spinse Il dubbio Quasi Diciamo Con forza Fisica Uscire Dalla bocca Queste parole Che cose Sono queste Sono queste Come mai Possono essere Salvi Dei pagani Per chi Io dico Ruscare Vi di gran festa Al verso Ottantaquattro Dante Narra Come Davanti A questo Suo grido Tutte le anime Che conformano L'aquila Lucicano Di più Per l'accresciuto Amore Di carità Che Diciamo Desta In loro Questa Domanda Sorprendente E orale Di Dante Quindi Prima di aspettare La risposta Dell'aquila Su queste Due Strane Salvezze Di pagani Di Traiano E di Rifeo Facciamo la pausa Vi chiedo Allora Se avete Dei dubbi O dei commenti Di inviarli Alla chat Grazie 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 Riprendiamo Allora Il commento Che ho qui Di Grazie 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 Invece Virgilio Non si salva Beh Io credo Che appunto L'associazione Con Virgilio Sia molto Spontanea A proposito Di un personaggio Virgiliano Oserei Addirittura Affermare Che Il Dante Scrittore Abbia voluto Che Che noi Diciamo Che il nostro Pensiero Andasse A Virgilio Intanto Adesso Diciamo Quando finiamo Di leggere Il canto Cerchiamo Di Tornare Col pensiero A Virgilio Perché Io ho L'impressione Ma è una mia Impressione Personale Per cui Prendetela Insomma Con cautela Che la presenza Di Rifeo Qua Insieme A quella Di Traiano Che è più Tradizionale Quindi Meno Problematica Abbia Un senso Proprio Per contiguità Di questi Due Personaggi Quindi Lasciamo Questo commento Un po' Diciamo In sospeso Finiamo Di leggere Il canto E magari Poi riprendiamo Questa nostra Considerazione Un po' Inevitabile Credo Che Dante Abbia previsto Che Grazie L'avrebbe scritto Questo Sulla chat Cioè Che Che noi Ci domandiamo Perché Non Virgilio Sei il personaggio Che noi più Amiamo E che abbiamo Avuto Costatazioni Plurime Della Sua Perfetta Bontà Ma E poi È vissuto Molto più Vicino A Cristo Anzi Secondo La visione Di Dante Collaborato Attraverso L'Egloga Quarta A convertire Al cristianesimo Personaggi Come per esempio Stazio Che è emblematico Di questa Funzione Providenziale Dell'opera Virgiliana E invece Si salva Uno Personaggio Dell'Eneide Dell'Eneide Che visse Più di mille Anni Prima di Cristo Vero Allora Qualcuno Dice che Pensa che Oggi Virgile In paradiso Va bene Io credo Che Al di là Dei nostri Desideri E pensieri Dobbiamo Almeno Diciamo In questo Nostro etere Che tenta Di essere Un'aula Limitarci A quello Che c'è Nella commedia Poi ognuno Di noi Può pensare Quello che vuole Verso chi è salvo E chi non è salvo Ma intanto In questo stesso canto Non a caso E' esplicita La La indicazione Da parte Dell'Aquila Di stare attenti Noi mortali A Attribuire Salvezzo Dannazione Alle persone Visto che Nemmeno Quelli che sono salvi Conoscono i criteri Di giustizia Di misericordia Quindi Intanto Leggiamo il canto E poi magari Alla fine Riprendiamo Questo discorso Allora C'eravamo fermati Al verso 84 Dante Aveva domandato Che cose Sono queste L'Aquila Si era accesa In tutte Le sue luci Che la compongono E al verso 85 Poi appresso Con l'occhio Più acceso Lo benedetto segno Mi rispose Per non tenermi In ammirare Sospeso No Immediatamente Con l'occhio Che è proprio formato Da queste luci Più brillanti Il segno Benedetto Dell'Aquila Mi rispose Dice Dante Per non Mantenermi Insomma In questo Dubbio Ammirato E al verso 87 L'Aquila Dice allora Io vedo Vedete che l'Aquila Sta sempre Nel parlare con Dante Prendendo la prima Persona singolare Io vedo Che tu credi Queste cose Perché io le dico Ma non vedi come Cioè vedo Che le accetti Insomma Perché le dico io Che sono un'autorità Ma che non capisci Come mai Questi due pagani Sono salvi Sicché Se sono credute Sono ascose Cioè anche se Ci credi Non le capisci Ti si nasconde La verità Fai come quei Che la cosa Per nome Apprende ben Ma la sua Quiditate Vederno un po' Se altri Non la prome Cioè Ti comporti Come quello Che impara Le cose a memoria Cioè Che le conosce Per nome Cioè Nella loro Identità Più superficiale Ma che non capisce La sua essenza La quiditas La sua quidità E non la può vedere Se qualcuno Non l'aiuta Non approfondisce E allora Per cominciare La sua spiegazione Sulla salvezza Di Traiano E di Rifeo Fa una citazione Evangelica Presa dal Vangelo Di Matteo Che è un'idea Che era stata Anticipata Indirettamente Come io Ho cercato Di farvi notare Regno Un celorum Violenza Fate Da caldo amore E da viva speranza Che vince La divina volontà Cioè Il regno Dei cieli Patisce Cioè Subisce La violenza Che proviene Da un amore Intenso E da una viva Speranza E questa Questo amore Questa speranza Vincono La volontà Divina Se Dante Era già sconvolto Figuriamoci ora Dove Dio Onnipotente Viene presentato Come uno Che è sconfitto Da un sentimento Della creatura Umana Dall'amore La speranza E quindi Immediatamente L'aquila Chiarisce Al verso Novantasette Non ha guisa Che l'uomo Ha l'omsobranza Cioè Non nel modo In cui Un uomo Supera Un altro uomo Ma vince Lei Perché vuole Essere vinta E vinta Vince Con sua Beninanza Cioè L'amore La speranza Degli umani Vincono Sulla volontà Divina Perché la volontà Divina Vuole essere Vinta Cioè Vuole che Ci sia Un caldo D'amore E un'intensità Nella speranza Talmente Forti Da Far cedere Anche Il suo Decreto E quindi Vinta La volontà Divina In realtà Sta vincendo Con la sua Bontà Questa Diciamo Stupenda Idea Secondo Cui Dio Vorrebbe Essere Misericordioso Più che Giusto E si Aspetta Da noi Che l'amore La speranza Come Follia Come dice Paolo L'amore Come qualcosa Di folle Che riesce Proprio a Capovolgere Addirittura La volontà Divina In realtà La sta Assecondando Perché la volontà Di Dio È quella Di essere Sconfitta Dalla speranza E l'amore E l'amore Spiriti Del cielo Di Venere Mi vinse Il lume Di questa Stella Cioè Di Venere Dice Punizza Per esempio Non mi ricordo In realtà Se lo dice Punizza O lo dice Carlo Martello Ma uno degli Spiriti di Venere Quindi il verbo Vincere Quello che vi voglio Far notare È che Nella commedia Stessa È associato All'innamoramento Al fatto Di essere Superati Soprafatti Da un sentimento Quindi Quando Dio Si lascia Innamorare Da un re giusto È perché Vuole farsi Innamorare Vuole che la giustizia Presso gli uomini Sia tale Da arrendersi Lui come Dio A questa Meraviglia Della Dell'umanità Allora L'Aquila Dopo aver spiegato Questo E cioè Che la volontà Di Dio Quando c'è Un grande amore Una grande speranza Si lascia Vincere No? Poi capiremo Perché lo sta Dicendo Riguarda La preghiera Che Diciamo Gregorio Magno Ha messo Di amore E di speranza Viva Per la salvezza Di Traiano Preghiera Che è stata Ascoltata Da Dio Vero? Allora Al verso 100 L'Aquila Continua La prima vita Del ciglio E la quinta Ti fa Maravigliare Cioè Traiano E Rifeo Ti fa Ti fanno Meravigliare Perché ne vedi La regione Degli angeli Dipinta Perché vedi Che il paradiso La Diciamo La regione Degli angeli È dipinta Di loro Cioè È abbellita Dalla loro Presenza E quindi Chiarisce In primis A Dante Al verso 103 L'Aquila Parla sempre No? Di corpi Suoi Non uscir Come credi Gentili Ma cristiani In ferma Fede Quelli Passuri È quel Di passi Piedi Allora Dei loro Corpi Traiano E Rifeo Non uscirono Come tu Credi E perciò Ti sconvolgi Sta dicendo L'Aquila Dante Pagani Ma cristiani In una Fede Ferma Quello Cioè Rifeo Dei piedi Passuri Di Cristo Cioè Dei piedi Di Cristo Che avrebbero In futuro Patito La crocifissione E quello Cioè Traiano Dei piedi Passi Cioè Dei piedi Che avevano Già patito La crocifissione Vedete La La L'incredibile Sintesi Questo verso 105 Per parafrasare Il quale Ci vogliono Quattro righe Vero Cioè Uno Rifeo Vissuto Chiaramente Molto Prima Di Cristo Morì In fede Come se fosse Un giudeo Sulla Futura Venuta Di Cristo E Traiano Sulla Recente Procifissione E al verso 106 Comincia a Parlare Di Traiano Che è il caso Come vi dicevo Meno stupefacente Perché Già facente Parte Di una leggenda E addirittura Accettata Come vera Da Tommaso Che luna Dell'inferno Uno si riede Già mai A buon voler Tornò All'ossa Cioè Già che Una Di queste anime Traiano Dall'inferno Dall'inferno Dove Non si può Tornare A una buona Volontà Dentro L'inferno Tornò Dall'inferno Alla vita A riavere Le ossa Le ossa Del corpo E ciò Di viva spene Fu mercede Di viva spene Che mise La possa Nei prieghi Fatti a Dio Per suscitarla Si che potesse Sua voglia Essere Mossa Allora Ciò Cioè Il fatto Che Traiano Dalla morte Nell'inferno Potesse tornare In vita Fu Premio Mercede Di viva Speranza Appunto Si parlava Della viva Speranza Qualche Verso Fa Di viva Speranza Che mise Il potere Nella preghiera Fatta Da Gregorio Magno E quindi Mise Possa Potere Affinché Dio Suscitasse Questa Possibilità Di tornare Nelle ossa In modo Che la sua Volontà La sua Voglia Che nell'inferno Non può Diventare Buona Potesse Di nuovo Essendo lui In vita Essere Mossa Essere Modificata E quindi Che lui Si convertisse Al cristianese Quindi In questi Versi Si vede Diciamo Che cosa Aveva Voluto Dire L'Aquila Quando Aveva Detto Che La volontà Di Dio È Volontariamente Vinta Dall'amore E Dalla Speranza Perché Appunto È stata La viva Speranza Di Gregorio Magno Che Commosso Dalla Giustizia Proverbiale E Dall'umiltà Di Questo Imperatore Traiano Aveva Pregato Dio Con Viva Speranza Che Lo Facesse Tornare Al Mondo Affinché Diventasse Cristiano E Si Salvasse Va bene E Dio Acconsentì Come Premio Alla Viva Speranza Di Queste Preghiere E Al Verso 112 Appunto Continua L'Aquila A parlare Di Traiano L'anima Gloriosa Onde Si Parla Tornata Nella Carne In Che Fu Poco Credette In Lui Che Pote Aiutarla Questo Si Capisce Perfettamente No Cioè Tornata Nella Carne Quindi Alla Prima Vita Nella Quale Stette Poco Tempo Si Convertì E Credetti In Cristo E Credendo S'accesi In Tanto Foco Di Vero Amor Ecco L'amore Prima C'era La Speranza Che Alla Morte Seconda Fu Degna Di Venire A Questo Gioco Che Morendo Per La Seconda Volta Ormai Cristiano Fu Degna Di Venire Alla Gioia Del Paradiso Questa La Storia Di Traiano Che Come Vi Dicevo Non È Un' Invenzione Dantesca Bensì Dante Sta Diciamo Come Testimone Oculare Insolito Del Paradiso Confermando Quello Che La Teologia Aveva Già Visto Come Possibile Per Esempio In Tommaso E Cioè Che Effettivamente Traiano Era Tornato Miracolosamente A Vivere Si Era Convertito Al Cristianesimo Grazie Alla Grande Speranza Che C'era Nelle Preghiere Del Papa Gregorio Ora Passa A Parlare Del Caso Più Stupefacente Che Appunto Quello Di Rifeo Verso 118 L'altra Per Grazia Che Da Si Profonda Fontana Stilla Che Mai Creatura Non Pinse L'occhio Infino Alla Prima Onda Tutto Su Amor Laggiù Pose Addrittura Perché Di Grazia In Grazia Dio Gli Ha Perse L'occhio Alla Nostra Redenzione Futura Cioè L'altra Anima Quella Di Rifeo Per La Grazia Che Proviene Stilla Cade Da Una Fonte Così Profonda Che Mai Una Creatura Spinse La Sua Vista Fino Alla Prima Onda Ecco L'immagine Della Fontana Che Vi Dicevo Appariva Prima Come Metafora Del Ruscello Per Dire Il Suono Della Voce No Cioè Per Una Grazia Talmente Incomprensibile Come Era La Giustizia Che Era Stata Paragonata Al Fondo Del Mare Vero Che C'è Sempre Anche Se In Pelago Non La Vediamo Per Una Grazia Che Non Dobbiamo Cercare Di Comprendere Dio Gli Aprì L'occhio Sulla Futura Redenzione Cristiana A Causa Del Tanto Amore Che Lui Pose Cioè Rifeo Verso La Drittura Cioè La Giustizia Come Se Dio Si Commuovesse Così Tanto Da Questa Giustizia Così Fortemente Seguita E Sentita E Rispettata Da Rifeo Che Per Grazia Gli Aprì La Visione Del Futuro Cristanesimo E Al Verso 124 Dei Dei Credetti In Quella Per Cui Lui Cominciò Ad Avere Fide In Quella Redenzione Cristiana E Non Sofferse Da Indil Puzzo Più Del Paganesimo E Anzi Non Tollerò Più Il Malodore Del Paganesimo E Riprendiere Le Genti Perverse E Riprendeva Di Questo Puzzo Del Paganesimo Leggenti Forviate Perverse Nel senso Etimologico Leggenti Che Erano Fuori Dalla Dritta Via Della Religione Vera Quindi Addirittura Dante Sta Tribuendo Del Tutto Fuori Dalla Fonte Virgiliana Chiaramente Non Solo La Salvezza A A A Rifeo Ma A Differenza Di Stazio Qui Dante Probabilmente Anche Ha Inventato Una Conversione Sulla Base Della Lettura Dell'Ebloga Quarta Ma Che Continua A Dirsi Per Paura Delle Persecuzioni Pagano A Rifeo Vissuto Più Di Mille Anni Prima Di Cristo Attribuì Una Sorte Di Predicazione Antichissima Del Cristianesimo Una Rimprensione Del Paganesimo Ai Suoi Coetanei E al verso centoventisette Continua L'Aquila Quelle tre Donne Li Fur Per Battesimo Che Tu Vedesti Dalla Destra Rota Dinanzi Dinanzi Al Battezzar Più Di Un Millesmo Cioè Siccome Non esisteva Il Battesimo Come Rito Diciamo Rituale Liturgico Il Battesimo Lo Fecero Quelle tre Donne Le tre Virtuti Ologali Fede Speranza E Carità Che Qua L'Aquila Dice Sono Quelle Che Tu Hai Visto Accanto Alla Ruota Destra Del Carro Della Chiesa Nel Paradiso Terrestre Vi Ricordate Quelle Tre Ninfe Insomma Che Accompagnano Il Carro Allora Quelle Tre Donne Le tre Virtuti Ologali Agirono In Lui Come Il Battesimo Avrebbe Agito Mille Anni Dopo E Dopo Aver Detto Questo Al Verso 130 L'Aquila Esclama O Predestinazione Quanto Remota È La Radice Tua Da Quegli Aspetti Che La Prima Cagione Non Ve Gi Tota O Predestinazione In Questo Caso Alla Salvezza Quante Lontana La Tua Radice La Tua Causa Ultima Cioè Il Criterio Della Grazia Divina Così Lontana Da Quelle Viste Gli Aspetti Dei Mortali Cioè Che Non Possono Vedere La Prima Causa Della Grazia Appunto Questa È Una Citazione Dell'Epistola Ai Romani Di Paolo Cioè Il carattere Incomprensibile Del Diciamo Del Dei Criteri Di Giustizia Di Misericordia E Immediatamente Dopo aver Detto Questo L'Aquila Passa A Indicare Che Non Dobbiamo Dire Noi Dov'è Andato A Finire Virgilio Perché Ci Dice Appunto Al Verso 133 E Cioè Tenetevi Stretti Vuol dire Non Allargatevi A dare Giudizi Che Noi Già Che Noi Che Dio Vediamo Cioè Che Vediamo Addirittura Dio Faccia A Faccia Non Conosciamo Ancora Tutti Gli Letti Noi Non Possiamo Sapere Chi Si Salverà E Quindi Nemmeno Voi Potete Saperlo Che Siete In Terra Che Vedete Dio Per Speculum Anagmizate Cioè In un Modo Del Tutto Imperfetto E Riflesso E Immediatamente Siccome L'Aquila Che Adesso Diciamo Nel Parlare Della Propria Condizione Dei Salvati E Passata Di Nuovo Al Plurale Adesso Parla Del Noi E Quindi Sono Le Anime Salvate Che Stanno Parlando Cioè Ormai Non Più A nome Dell'Aquila Simbolo Dell'Impero Bensì Come Salvati E Ha Appena Accennato Al carattere Limitato Anche Della Loro Visione Dei Criteri Di Giustizia Passa Dire Che Questa Limitatezza Non Solo Non Diminuisce Il Godimento Del Paradiso Ma Anzi Lo Radolcisce Lo Dice Così Al Verso 136 Ed Enne Dolce Così Fatto Scemo Perché Il Ben Nostro In Questo Ben Saffina Che Quel Che Vuole Dio E Noi Volemo Cioè E Ci E Dolce Questo Fatto Scemo Cioè Questa Mancanza Di Conoscenza Dei Criteri Di Giustizia Di Misericordia Di Dio Perché Il Nostro Bene Si Affina In Questo Bene Di Dio Già Che Quello Che Dio Vuole Noi Lo Vogliamo Cioè È Un'idea Che C'era Già Vi Ricordate Nei Primi Spiriti Che Dante Aveva Trovato Cui Aveva Domandato Se Non Volessero Essere Più Amiche Di Dio Cioè Più Vicini A Dio Quindi Di Avere Un Grado Superiore Di Beatitudine Le Anime Del Cielo Della Luna No E Loro Avevano Detto No Qui Ognuno Vuole Quello Che Vuole Dio Non Abbiamo Alcuna Divergenza Tra La Nostra Volontà E Quella Di Dio E Anzi Questo Ci Rende Addirittura Cioè In Questa Coincidenza Tra la Volontà Di Dio Incomprensibile E La Nostra E La Nostra Pace Vi Ricordate Che A proposito Di Quelle Parole Avevamo Detto Che Questa Condizione Delle Anime Che Si Consegnano Si Abbandonano Volontariamente Alla Volontà Di Dio E In Questo Trovano La Vera Pace E La Vera Libertà E Analogo A Quello Che Possiamo Vedere In Terra Del Bambino Che Conoscendo La Propria Limitatezza E Sapendo Che Il Padre Vuole Il Bene Per Lui Si Abbandona Al Padre E Si Rasserena Ammettendo La Propria Limitatezza Come Un Bene Come Una Dolcezza Che Lo Esime Dal Dover Decidere Anche In Questo Caso No Il Fatto Di Non Conoscere Da Parte Dei Salvati I Criteri Di Giustizia E Dolce E Una Mancanza Dolce Che Affina Il Proprio Volere Alla Volontà Di Dio Senza Cercare Delle Delle Spiegazioni Chiaramente Irraggiungibili E Allora Finita Il Verso 138 Il Discorso Dell'Aquila Dante Al Verso 139 Riprende Come Poeta Così Da Quell'immagine Divina Per Farmi Chiara La Mia Corta Vista Data Mi Fu Soave Medicina Questa Terzina È Stupenda Perché In Qualche Modo Attraverso Quest'immagine Della Corta Vista Che Era Quella Che Aveva Attribuito L'Aquila A noi Umani E Addirittura Dante Tu Con La Vista Corta Diciamo Di Un Palmo Vuoi Vedere Lungi Mille Miglia Cioè Dico Attraverso Questo Sintagma Corta Vista Che È Uguale A Quello Del Canto Scorso Si Stanno Praticamente Riallacciando Quel Digiuno Lungo Di Dante Cioè Perché Qualcuno Che È Nato Sulla Riva Dell'Indo E Non Ha Conosciuto Cristo È Giusto Che Non Sia Salvato Se Era Buono Con Questo Che Ha Appena Detto L'Aquila Cioè Che Anche Un Pagano Che È Vissuto Mille Anni Prima Di Cristo Senza Alcun Potere Ma Che Osservò La Giustizia In Un Modo Altissimo Può Essere Salvo In Un Modo Del Tutto Incomprensibile E Allora È Come Se Dante In Questa Terzina Dicesse Sebbene La Risposta Immediata Dell'Aquila A Quella Mia Domanda Fosse Stata Chi Sei Tu Per Giudicare No E Salire In Cattedra La Vera Risposta Dell'Aquila Finisce Qua Quando Si Presenta Rifeo E Quindi A Questa Corta Vista Di Dante Fa Chiarezza Questa Presentazione Dell'Occhio Dell'Aquila Che È Per Dante Una Soave Medicina Non Una Severa Risposta Come Quella Che Aveva Dato Prima Che Riguardava Il Rischio Di Superb Intellettuale Di Voler Giudicare Qualcosa Senza Averne Le Capacità Ma Una Medicina Dolce Perché Ha Della Speranza Anche Per Quel Indiano Che Non Ha Conosciuto Cristo Perché Una Delle Cose Che Dante Ha Imparato Qua È Che Dio Volentieri Si Lascia Vincere Dall'amore Dalla Speranza Umani E Allora Al verso 142 Così come Vi ricordate Il canto Si era aperto Con questa Sinestesia In cui Si Paragona Il Nascondersi Del sole L'uscire Delle Stelle No Dall'unità Di una fonte Di luce Al plurime Per Rendere Come Un solo Suono Corale Dell'Aquila Fosse Sostituito Da più Voci Anche Qua Si chiude Con una Sinestesia Vediamo Il verso 142 Come A buon Cantor Buon Citarista Fa Seguitare Lo guizzo Della corda In che Più di Viacerlo Canto Acquista Cioè Così come Uno che Canta Bene E Accompagnato Da Un suonatore Bravo Di Cetra Che Accorda Il suono Dello Strumento Facendo Crescere Il piacere Del canto E facendo Coincidere Bene La nota Il ritmo Del Dello strumento Con quello Del canto Così Verso 145 Si mentre Che parlò Cioè così Mentre che L'Aquila Parlava Si mi ricorda Che io vidi Le due Luci Benedette Io mi ricordo Adesso Mentre scrivo Che mentre Parlava L'Aquila Io vedevo Che le due Luci Benedette Di Troiano E di Rifeo Pur come Batter D'occhi Si concorda Con le parole Mover Le fiammette Con la stessa Perfetta Simultaneità Con cui I due Occhi Battono Le palpebre Muovevano Le fiamme Brillando Di più Insieme Alle parole Dell'Aquila Che parlava Di loro Due Ora Questo Quest'ultimo Brano Appunto In cui Si nomina La presenza Delle due Anime Dei pagani Salvati Che Contemporaneamente Con il racconto Della loro Storia Si muovono Brillando Di più Abilita Forse A fare Questo Diciamo Questo pensiero Che condividevo Con voi Prima Quando avevate Accennato Al destino Eterno Di Virgilio E cioè Forse No? Metto le mani Avanti Perché è una mia idea Se la storia Di Rifeo Fosse Stata Raccontata Da sola Come un caso Eccezionale Di salvezza Di un pagano Al di fuori Di ogni aspettativa Cristiana Chiaramente Noi avremmo Fatto Questo collegamento Con Virgilio Perché Rifeo Un personaggio Delle Neide No? E tuttavia Sarebbe Rimasto Un caso Isolato E l'ultima Nostra Possibilità Di Pensare A Virgilio Sarebbe Stata Troncata Da questa Ammonizione Da questo Monito Dell'Aquila State strette Voi umani A giudicare No? Perché neanche noi Che vediamo Dio Sappiamo Chi sono gli eletti Ma il fatto Che insieme A Rifeo Ci sia Traiano Più convenzionale Ma Un personaggio Che dà luogo All'Aquila Di parlare Della forza Del tutto Sconvolgente Della preghiera Quando in essa Si mette Un grande amore E una viva speranza Io credo Che sia Un invito Di Dante A farci pregare Per Virgilio Perché se Straordinariamente Si salvò Traiano Perché la Volontà Di Dio Vuole essere Sconfitta Dalla Forza Di una Preghiera Con speranza Viva E grande Amore E se Se Rifeo Un personaggio Pagano Vissuto Molto Prima Di Virgilio Forse Dante Ci vuole Invitare A pregare Con viva Speranza E grande Amore Per la Salvezza Di Virgilio Quindi Cominciamo A farlo E Asteniamoci Dal giudicare Dov'è Virgilio Va bene Rileggiamo Il canto Quando Colui Che tutto Il mondo Alluma Dell'emisferio Nostro Si discende Che il giorno D'ogni parte Si consuma Lo ciel Che soldi Lui Prima S'accende Subitamente Si rifà Parvente Per molte Luci In che Una Risplende E questo Atto Del ciel Mi venne A mente Come il Segno Del mondo E dei Suoi Duci Nel Benedetto Rostro Fu Tacente Però Che tutte Quelle Vive Luci Vi è Più Lucendo Cominciaron Canti Da mia Memoria Labili E Caduci O Dulce Amor Che di Risottammanti Quanto Parevi Ardente In Quei Flailli Che Avieno Spirito Solo Di Pienziersanti Poscia Che Cari Luci Di Lapilli Ondio Vidi Ingemmato Il Sesto Lume Poser Silenzio Agli Angelici Squilli Udirmi Parve Un Mormorar Di Fiume Che Scende Chiaro Giù Di Pietra In Pietra Mostrando L'ubertà Del Suo Cacume E Come Suono Al Collo Della Cetra Prende Sua Forma E Siccome Al Pertugio Della Zampogna Vento Che Penetra Così Rimosso Da Aspettare Indugio Quel Mormorar Della Guglia Salissi Su Per Lo Conno Come Fosse Bugio Fecesi Voce Quivi E Quindi Uscissi Per Lo Suo Becco In Forma Di Parole Quali Aspettava Il Core O Vio Le Scrissi La Parte In Me Che Vede Pate Il Sole Nella Guglia Mortale In Cominciammi Or Fisamente Riguardarsi Vole Perché Di Fuochi Onde Io Figura Fommi Quelli Onde L'Occhio In Testa Mi Scintilla E Di Tutti L'Orgradi Sono Li Sogni Colui Che Luce In Mezzo Per Pupilla Fu Il Cantor Dello Spirito Santo Che L'Arca Traslatò Di Villa In Villa Ora Conosci Il Merto Del Suo Canto In Quanto Effetto Fu Del Suo Consiglio Per Lo Remunerar Che E Altrettanto Dei Cinque Che Mi Fan Cerchio Ver Ciglio Colui Che Più Al Becco Mi S' Costa La Vedovella Consolò Del Figlio Ora Conosce Quanto Caro Costa Non Seguir Cristo Per L'Esperienza Di Questa Dolce Vita E Dell' Opposta E Quel Che Segui La Circonferenza Di Che Ragiono Per L'Arco Superno Morte Indugio Per Vera Penitenza Ora Conosce Che Il Giudicio Eterno Non Si Trasmuta Quando Degno Preco Fracrassino Da Giù Dell'Odierno L'altro Che Segue Con Le Leggi E Meco Sotto Buona Intenzione Che Fè Malfrutto Per Cedere Al Pastor Si Fece Greco Ora Conosce Come Il Mal Dedutto Dal Suo Bene Operar Non Gli E Nocivo Avvegna Che Si Il Mondo Indi Distrutto E Quel Che Vedi Nell'arco De Clivo Cuglielmo Fu Cui Quella Terra Plora Che Piagne Carlo Federico Vivo Ora Conosce Come Si Innamora Lo Ciel Del Giusto Regge E Al Sembiante Del Suo Fulgore Il Fa Vedere Ancora Chi Crederebbe Giù Nel Mondo Errante Che Rifeo Troiane In Questo Tondo Fosse La Quinta Delle Luci Sante Ora Conosce Assai Di Quel Che Il Mondo Vederno Un Po Della Divina Grazia Benché Sua Vista Non Dicerna Il Fondo Quale Allodetta Che In Aere Si Spazia Prima Cantando E Poi Tace Contenta Dell'ultima Dolcezza Che La Sazia Tal Me Simbiò L'imago Dell' Imprenta Dell' Eterno Piacere Al Cui Visio Ciascuna Cosa Qual È Le Diventa E Avegna Che Io Fossi Al Dubbiar Mio Lì Quasi Vetro Allo Color Che Veste Tempo Aspettar Tacendo Non Patio Ma Della Bocca Che Cose Son Quiste Mi Pinse Con La Forza Del Suo Peso Perch'io Dico Ruscar Vidi Gran Feste Poi Appresso Con L'occhio Più Acceso Lo Benedetto Segno Mi Rispose Per Non Tenermi In Ammirar Sospeso Io Veggio Che Tu Credi Queste Cose Perch'io Le Dico Ma Non Vedi Come Sicché Se Son Credute Sono Ascose Fai Come Quei Che La Cosa Per Nome Apprende Ben Ma La Sua Quiditate Veder Non Posse Altri Non La Prome Regno C'è Loro Violenza Patte Da Caldo Amore Da Viva Speranza Che Vince La Divina Volontate Non Aguisa Che L'Omo All'Om Sobranza Ma Vince Lei Perché Vuole Essere Vinta E Vinta Vince Con La Sua Beninanza La Prima Vita Del Cilio E La Quinta Ti Fa Maravigliar Perché Ne Vedi La Regione Degli Angeli Dipinta Di Corpi Suoi Non Piedi Gentili Ma Cristiani In Ferma Fide Quel Dei Passuri E Quei Di Passi Piedi Che Luna Dello Inferno Non Si Riede Già Mai A Buon Voler Tornò All'ossa E Ciò Di Viva Spene Fu Mercede Di Viva Spene Che Mise La Possa Nei Preghi Fatti A Dio Per Suscitarla Si Che Potesse Sua Voglia Essere Mossa L'anima Che Fu Poco Credetti In Lui Che Poté Aiutarla E Credendo S'accesi In Tanto Foco Di Vero Amor Che Alla Morte Seconda Fu Degna Di Venire A Questo Gioco L'altra Per Grazia Che Da Si Profonda Fontana Stilla Che Mai Creatura Non Pinse L'Occhio Fino A Quel Prima Onda Tutto Su Amor Laggiupose Adrittura Perché Di Grazia In Grazia Dio Gli Ha Perse L'Occhio Alla Nostra Redenzione Futura O Dei Credetti In Quella E Non Sofferse Da Indilpuzzo Più Del Paganesmo E Riprendiere Le Gent Perverse Quelle Tre Donne Gli Fur Per Battesmo Che Tu Vedesti Nella Destra Rota Dinanzi Al Battezzare Più Di Un Millesimo O Predestinazione Quanto Rimota È La Radice Tua La Prima Cagione Non Ve Giuntota E Voi Mortali Tenetevi Stretti A Giudicar Che Noi Che Dio Vedemo Non Conosciamo Ancor Tutti Gli Letti Ed Enne Dolce Così Fatto Scemo Perché Il Ben Nostro In Questo Ben Saffina Che Quel Che Vuole Dio E Noi Vedemo Così Da Quell' Immagine Divina Per E Come A Buon Cantor Buon Citarista Fa Seguitarlo Guizzo Della Corda In Che Più Di Piacere Lo Canto Acquista Si Mentre Che Parlo Si Mi Ricorda Che Io Vide Le Due Luci Benedette Pur Come Walter D'Occhi Si Concorda Con Le Parole Muover Le Fiammette Grazie Dell'attenzione Ci Vediamo La Settimana Prossima